il serpente la mela e io quella donna aveva voluto sedurmi proprio come il serpente che pinotizzò ad amo con lo sguardo e lo convinse ad assaggiare la mela mi annoiavo a morte ci voleva proprio una donna che mi accarezzasse un po avevo avuto un contatto con una compagnia che scavava pozzi petroliferi 25 giorni al mese vivevo in un container parcheggiato nelle vicinanze di un villaggio non lontano dall'avana lavoravo sulla scogliera a pochi metri dal mar dei caraibi dieci ore al giorno a trasportare tubi barre di ferro travi trivelle e così via era un lavoro duro sempre sporco di grasso e di fango con un puzzo di zolfo molto stancante la sera mandavo giù il bollito che preparavano lì e mi buttavo sulla branda come un cane bastonato fino alle 5 della mattina dopo a volte pensavo che quella routine fosse comunque preferibile al solar alla calca dei negri e alla miseria assoluta altre volte invece mi veniva voglia di mandare a fare in culo il petrolio e di tornarmene a casa la mia eterna confusione come sempre indeciso fino al midollo indeciso come un pendolo ma comunque preferisco essere patetico piuttosto che sordido non avevo nel tempo nella forza per pensare il che aveva i suoi vantaggi la vita frenetica d'azzardo mi ha sempre portato in un vicolo cieco molti amori pazzi assurdi ad esempio sempre tormentato correndo a precipizio dentro e fuori tante situazioni come chi cerca e non trova oltretutto stavo invecchiando avevo scoperto che giorno dopo giorno mi venivano a mancare le capacità di essere cinico perdevo energia e allegria e potere di moltiplicazione non riuscivo più a manipolare cinicamente le cose come quando ero giovane e volevo fare di testa mia ad ogni costo quella donna cercava di sedurmi con lo sguardo da qualche tempo ma ora carina un po massiccia sui 35 anni dieci meno di me era infermiera al policlinico del paese c'eravamo visti là due o tre volte un giorno avevo dovuto farmi medicare una ferita infetta e lei era lì col suo sguardo alle libertà della marque e la boccuccia alla salita montiel mi era parsa un po adunca ma con un corpo sodo bel culo belle tette per me non faceva differenza che nel cranio avesse cervello o stoppa avevo deciso di stare al gioco avevamo parlato un po e aveva accettato il mio invito a uscire insieme ma capovolgendolo in questo paese la gente è molto pettegola è meglio che venga tu da me abito da sola ti piace giocare a domino sì ma ma cosa nessuna donna mi ha mai invitato a giocare a domino così ci eravamo dati un appuntamento per la sera stessa mi ero lavato per bene cercando di eliminare il fango e il puzzo di zolfo la sua casetta si trovava in un posto buio e appartato mezza nascosta da erba e arbusti che non somigliavano propriamente a un giardino tutto si era svolto con una lentezza esasperante la casetta scura di legno non dipinto con pochissimi mobili era quasi vuota due o tre lampadine dalla luce giallognola opaca porte e finestre ben chiuse caldo soffocante nemmeno un particolare tradiva la presenza di una donna una tendina un fiore qualcosa di grazioso da qualche parte niente mi ero lasciato ugualmente trascinare verso la mela nonostante la sua goffaggine mi aveva portato in cucina ci eravamo seduti a un tavolo e avevamo giocato a domino vivendo rum tiepido del genere più economico e schifoso quello che si trova solo nei tuguri più sordidi poi lei aveva tirato fuori un pacchetto di sigarette di tabacco nero e aveva fumato dopo mezz'ora ero riuscito a sottrarmi al domino stava diventando una tortura avevo quasi voglio di mandare a fa un culo e andarmene invece avevo cercato di fare conversazione in realtà volevo ancora dare un morsetto alla mela nonostante tutto ma non era finita si era messa a parlare di baseball io non ho niente da dire sul baseball né a favore né contro poi era passata al karate mi aveva mostrato le sue mani dure e callose mi alleno tutti i giorni posso spezzare un asse con un colpo solo e non ti danno fastidio i calli nel tuo lavoro no anzi perché tu vuoi sapere troppo io non voglio sapere niente per me fa lo stesso si era alzata era andata in camera da letto ed era tornata con una busta erano foto sue in bichini un bichini castigato in varie posizioni sembravano foto di anatomia per un libro di medicina posizioni aride e il fotografo immobile davanti a lei mai visto niente di più ridicolo forse pensava di scaldarmi il sangue con quella porcheria forse le trovava pornografiche l'odio aveva cominciato a ribollirmi dentro che sarebbe sono io chi te le ha fatte e dove quante domande tesoro non è bene voler sapere troppo mi si era avvicinata forse si aspettava che io la baciassi e le toccassi una tetta invece no mi sentivo come se lei fosse uno di quei tipi pelosi come orsi che lavoravano con me sempre sudati e con un tanfo da vomitare mi chiedevo come cazzo potessi andarmene decorosamente senza arrivare a mandarla a fare in culo non mi piace essere volgare con le signore perché non metti un po di musica non ho la radio ma che casa è questa hai ragione è che beh voglio dirtelo sono stata via molto tempo da cuba sono tornata da poco ah che donna misteriosa non puoi sapere tutto o magari te lo dirò ma poco a poco sei dei servizi di sicurezza avevo fatto una smorfia vanitosa che significava chissà io avevo indicato l'armadio da cui aveva tirato fuori le foto e le avevo detto lì dentro c'è una pistola e sei stata nella brigata america che corre su e giù nella finestra tra scimmietta e serpenti ehi chi cazzo sei tu mi conosci cosa sai della brigata america era allarmata si era alzata in piedi per un attimo avevo avuto paura lei era karateka e io avevo fatto solo un po di box chissà che cazzo mi era saltato in mente di dirle così forse telepatia fosse stata telepatia o semplice coincidenza ora bisognava tranquillizzarla dai non farsi caso sto scherzando non essere così tesa rilassati lasciati andare non scherzare su queste cose non scherzare ti dico ascolta ormai è tardi e domani mi devo svegliare alle 5 me ne vado non è tardi non sono ancora le 10 vuoi ancora un po di room no quando ci rivediamo vieni domani magari sì verso sera passa dal policlinico e avvisami non posso farti un'improvvisata no prima avvisami ti hanno addestrata bene compagna sempre allerta ti ho già detto che con certe cose non si scherza adesso mi dici come fai a conoscermi no no non lo saprai mai ci vediamo domani ciao così ero riuscito a prendere il largo ero uscito all'aria fresca della notte e avevo respirato a fondo allora avevo capito una cosa fondamentale quella donna non aveva odore di donna ecco perché i miei testicoli non avevano vibrato non mi era vibrato niente sono rimasto ancora un anno ai pozzi di petrolio ma non l'ho più rivista facevo in modo di lavorare molto e di pensare poco mi abrutivo ancora di più mi venivano alle rughe e invecchiavo e la pelle mi si tostava al sole al salnitro allo zolfo